Tagliano i rami degli alberi, abbandonano le fronde a terra per settimane. Esattamente come è accaduto in via Giordano all'Infernetto, lascia alquanto a desiderare il modus operandi della ditta che sta effettuando le potature in via Capo Spartivento, ad Ostia. A pagarne le spese sono soprattutto i commercianti della zona. Dopo tanti anni, saranno passati una 35 anni, se non di più, se abbiamo avuto queste potature. Però di punto in bianco, qui è rimasta la mondezza in mezzo allo spartitraffico, non sono venuti a ritirare tutte le potature che sono state fatte. Poi i cartelli li hanno tolti, l'agente ha riparcheggiato, quindi è stato un servizio non tanto per la quale. Come mai non le hanno portate via subito? Sono venuti, l'ultima volta che sono venuti, se non mi ricordo male, hanno trovato le macchine ferme posteggiate. Quindi anche in disservizio, per quanto concerne pure i vigili, con i cartelli, i cartelli li hanno messi. Quindi vi restano le fronde, qualche segnale qua e là ancora c'è? Sì, sì, qualche segnale rimane, stanno là. Gli stralci delle potature stanno là, quindi... E restate in attesa? Andiamo in attesa se qualcuno arriva a pulire, sperando. L'hanno tagliato, la settimana per il Natale, hanno portato gli alberi, adesso abbiamo più luce, abbiamo più tutto, però abbiamo la sporcizia sulla strada. I rami più grandi li hanno portati via subito, appena tagliato. Del resto forse dovevano venire in secondo tempo, ma le macchine sono state parcheggiate, quindi non c'è stato un modo da poter raccogliere velocemente in secondo tempo i rami. Hanno trovato le macchine parcheggiate, sicuramente non hanno potuto pulire il tutto. Certo che è un modus brandi piuttosto discutibile. Sì, purtroppo diciamo che ci siamo abituati a questo, oramai la cosa brutta è che ci stiamo abituando a non risolvere le cose in fretta, ma mano a mano e smuovendo. In questo punto addirittura le fronde occupano un posto auto in una zona dove notoriamente in alcune ore del giorno e soprattutto della notte è molto difficile trovare parcheggio. Comporta molti disagi perché i clienti non possono parcheggiare o comunque non si possono fermare per prendere un caffè, per fare i capelli, per andare ad altri negozi. E quindi ecco qui che noi stiamo ridotti in questo modo già da più di 15 giorni, insomma, la prima festa di Natale, che c'è più margine di lavoro, insomma. Sulla pagina del municipio Decimo c'è stato un utente che ha fatto presente la settimana scorsa, prima di Capodanno, che appunto erano rimaste le putature a terra. E credo che uno degli operatori abbia risposto appunto dicendo che a breve sarebbero state raccolte. Però a tutt'oggi ancora siamo così. Non è chiaro se si tratti della stessa impresa dell'Infernetto, ma è evidente che chi dovrebbe vigilare ancora una volta i preposti uffici municipali non segue affatto i cantieri in corso.